Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi. Oggi facciamo un video speciale perché lo ritengo assolutamente fondamentale in questo momento storico che il nostro paese sta affrontando. E' pur vero che abbiamo visto tutte quelle che sono le informazioni sui TG, la gravità della situazione, come è sfuggita di mano la situazione, moltissime le perplessità in questo momento, anche tra quelli che sono i miei contatti che mi mandano una serie di richieste, anche di informazione, perché magari siamo un po' addentrati sui mercati, un po' meglio di tante persone, l'idea di fondo è sempre quella di volerci vedere. Chiaro, quando finirà tutto questo, ragazzi? Quando andrà a scemare questa fase? E che cosa sta succedendo? La risposta a queste domande, forse un po' sottovalutata anche dai media, ragazzi, perché non ho sentito neanche un TG, non ho sentito neanche una informazione, dare queste notizie a tutti quanti, queste che daremo in questo video, per spiegare quando finirà questo problema e quando potremo tornare a una vita normale, quando potremo tornare a stare più tranquilli fuori dalle nostre case. Perciò, ragazzi, io vi chiedo la gentilezza in questo caso, vista l'informazione importante che daremo in questo video, un po' per tutti, di condividere il video il più possibile, dovunque lo riteniate opportuno. Come sempre, poi lasciatemi un mi piace per questi sforzi e spero di poter contribuire con quella che è la mia formazione a dare una mano a tutti in questa fase molto delicata. La mia formazione, bene sì, ragazzi, perché facciamo analisi grafiche e oggi analizziamo il grafico più importante di tutti per l'Italia negli ultimi mesi. Analizziamo il grafico dei contagi del coronavirus, analizziamo il grafico che ha dato il via a tutto quello che vedete, perché è questo il vero obiettivo delle norme di restrizione fatte dal nostro governo, della zona rossa estesa a tutta l'Italia. Il motivo di questa politica è dovuto proprio a questo grafico che andremo a guardare oggi. Lo vedremo, vedremo anche perché la situazione è gravemente, e sta gravemente deteriorandosi, e il motivo anche del perché di queste normative fortemente restrittive, ma vedremo anche alla fine del video come è andata a finire in Cina, negli stati che sono passati prima di noi, e perché queste politiche devono essere rispettate, ragazzi, queste regole devono essere rispettate da tutti per poter raggiungere questa stabilità che vedremo oggi il prima possibile. Allora, ragazzi, davanti a me c'è l'andamento del grafico del coronavirus, dei contagi che hanno, diciamo, preso tutto il nostro paese, l'Italia. Questi numeri invece li avete già visti, che sono quelli che presentano costantemente alla TG, e sono tutte le province dove è stato, dove si è diffuso il virus Covid-19. Il trend del giorno sono quelli aggiornati alla giornata di ieri, non alla giornata di oggi, ragazzi, quelli usciranno questa sera, ma cerchiamo di capire qual è la pericolosità del virus in questione e qual è il grafico effettivamente che ha messo in allerta il nostro governo al punto tale da agire con estrema fermezza nella giornata di ieri ed estendere la zona rossa a tutta l'Italia, anche le regioni meno colpite. Allora ragazzi, questi sono i grafici più importanti che dovremmo andare a vedere in questo momento e questo qui in particolar modo, vi lascio il link in descrizione anche del sito del Sole24ore, questo che vediamo in rosso, quindi casi totali, è il grafico che in questo momento sta assumendo la forma di funzione esponenziale. Ed è questo il problema gravissimo che il nostro governo sta tentando di impedire, perché ragazzi è finora un discorso contenuto, ma chi sa come progredisce un grafico di natura esponenziale, com'è la struttura del virus, come si espande il virus, capisce che noi potremmo avere un andamento dei contagiati in questo modo e dentro pochissime settimane questa cosa sarebbe una catastrofe immensa per il nostro Stato e quindi è giusto andare ad agire in maniera estremamente forte, estremamente imponente per far sì che questo grafico non assuma questa forma, ragazzi. Tutto quello che stiamo vedendo in questo momento, tutto quello che viene fatto in questo momento dal nostro governo, tutto quello che stanno facendo, ragazzi, è a causa di questo grafico qui. Perché questo grafico ha questa forma che vedete, che sta virando all'esponenziale, sia per i positivi, insomma, che poi vedremo anche, ragazzi, nella giornata proprio di ieri, quindi anche i giornalieri come stanno incrementandosi. Se questo grafico non girerà, ragazzi, le misure di restrizione aumenteranno ancora di più fino a quando non ci chiuderanno praticamente tutti fermi in un unico posto. Perché questo è il problema che in questo momento si vuole affrontare in Italia. Allora, ritornando a noi, ragazzi, questo grafico dobbiamo mandarlo giù. Dobbiamo fare in modo che questo grafico assuma questa forma, ragazzi. Quando il grafico arriverà a questo punto, in questo modo, quando avrà questa pendenza, la problematica sarà in via di risoluzione. Fintanto che non avremo questo tipo di andamento del grafico dei contagi del virus Covid-19, tutto quello che avete visto, tutte le restrizioni che sono state effettuate in questi giorni, aumenteranno o comunque non si ridurranno, ragazzi. Perciò diamoci una mano tutti quanti. Questo è il nostro obiettivo. Secondo me moltissimi dovrebbero parlare così a tante persone, ragazzi, perché, ok, l'informazione di massa, però certe volte dare la giusta spiegazione e far capire il perché di queste politiche alle persone, secondo me è un valore aggiunto, il più importante anche per far rispettare le regole. Questa è una cosa grafica, la possiamo vedere, ragazzi. Stiamo giocando a questo gioco. Noi dobbiamo vincere facendo girare questo grafico. E per farlo dobbiamo farlo tutti insieme, ragazzi. Quindi condividete queste informazioni, condividetele con chi ritenete possa averne bisogno per far capire, appunto, la problematica da un punto di vista quasi di un gioco, ragazzi. La sto rendendo anche così perché è più semplice da comprendere, ma per far capire anche a molti che si sono lamentati in questa fase, misure eccessive, misure non eccessive, qual è l'obiettivo di questa politica e il perché è corretto fare in questo modo. Vedete anche l'andamento delle province, per esempio in questo grafico, come la provincia di Bergamo, ragazzi, stia assumendo un'altra funzione esponenziale. Quindi ancora una volta, vedete, in questa riga, la più, diciamo, oscura, vedete come la funzione esponenziale va a mandare in crisi tutto quello che è la struttura sanitaria della città di Bergamo perché non ci sarebbe nessun modo di ricoverare tutte queste persone. Perciò è fondamentale in questo momento far sì che questa curva non vada diritta, non vada su, ragazzi, abbiamo visto fare sui mercati finanziari veramente in bolla speculativa. Questa è una bolla di un virus, chiamiamola così, se vogliamo giocarci un po' su. Queste invece sono le regioni d'Italia le più colpite. In questo momento, ovviamente, Lombardia ed Emiliano Magna sono le regioni più colpite, ma la Lombardia, ragazzi, ha una situazione estremamente grave perché i contagi sono aumentati di 1300 circa soltanto in Lombardia. Quindi bene in questo momento bloccarsi in questa regione, insomma fare tutto quello che è giusto. Poi i dati per provincia, ragazzi, li abbiamo già visti, questi, insomma, sono, diciamo, dati più comuni. Volevo però farvi vedere questo grafico e concludiamo il video facendovi vedere l'altro grafico, che cosa è successo in Cina e quando l'epidemia, quando questa attuale situazione si è stabilizzata. Lo guardiamo di nuovo guardando questo grafico, ragazzi. Come vi ho spiegato, noi siamo in questo momento qui in Italia, ragazzi. Siamo qui, in questo punto grafico. Voi dovete immaginare come se questa parte non esiste. Stiamo cercando di disegnarla in questo momento. E tutto quello che sta facendo il governo in questo momento è far sì che questa curva non assuma questa forma, bensì quella che è avuto poi nel stato della Cina. Quindi sul governo cinese. Quando saremo qui, la situazione si sarà stabilizzata e saremo fuori pericolo di un contagio di natura esponenziale, ragazzi. Però guardiamo anche una cosa che ritengo assolutamente giusta da mostrare. Guardate questo flesso che è avvenuto in questo punto in Cina. Qui, diciamo, è aumentato in maniera estremamente rilevante diciamo i casi. Questo potrebbe accadere anche da noi nell'ultima parte, la famosa parte che viene chiamata il picco del virus. Quando il mercato, quando il virus in questo momento, non il mercato, ragazzi, scusatemi, ma sarebbe stato meglio parlare di un titolo azionario in questo momento. Quando il virus toccherà il picco sarà l'apice, la famosa bolla speculativa, chiamiamola così, che andrà poi contenuta e dovrebbe virare, vedete, in questo nuovo modo di cammino della infezione, quindi del contagio. Solo in questo punto avremmo potuto, avremmo risolto la situazione, quantomeno, in maniera abbastanza imponente. Poi lì ci sarà magari da stare attenti, le norme igieniche saranno sempre rispettate, ragazzi, sarà importante questo, ma il video di oggi è un video per dare a tutti il quadro chiaro della situazione e del perché di queste politiche che sono state messe in atto. L'abbiamo fatto, come sempre, nella ratio, nella mia formamentis, della mia community, Mauro Caimi Trading On, che è una community dove analizziamo dati, ragazzi, analizziamo i dati, perché i dati non sono un'opinione, i dati non sono soggettivi, sono di natura oggettiva, questo è quello che si sta tentando di fare, giochiamo tutti a questo gioco, ragazzi, giochiamo tutti a questo gioco per vincere e chi di voi ama i videogiochi, ama giocare, sa quello che sto dicendo. Ragazzi, farò altri video anche, ovviamente, sui mercati, in questo momento c'è anche il Bitcoin che sta reagendo, ma oggi andiamo a trattare il grafico più importante di tutti. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti da Mauro Caimi.